Nel video di oggi, esploreremo gli eventi sorprendenti durante l'intervista di Maria De Filippi a Yari Carrisi, il figlio di Albano. Prima di continuare con questo video, ci teniamo a chiedere il vostro supporto, semplicemente cliccate sul tasto iscriviti e lascia un mi piace al video. Grazie mille. Durante il concerto di San Silvestro, Yari Carrisi aveva già ricevuto numerose critiche, ma questa volta ha catturato l'attenzione mediatica con un gesto inaspettato. In diretta televisiva, prima dell'intervista con Maria De Filippi, ha stupito tutti togliendosi le scarpe. La conduttrice, colpita e incuriosita da questo gesto insolito, ha chiesto a Yari il motivo, e lui ha spiegato che il disagio derivava dall'utilizzo di scarpe con suole di plastica. Ha sostenuto che appoggiare i piedi direttamente sul pavimento può eliminare vari problemi e scaricare l'elettricità. La sua decisione di svolgere l'intervista a piedi nudi ha suscitato reazioni miste. Molti follower e spettatori del programma hanno criticato aspramente la scelta, esprimendo delusione e incomprensione. Un commento di un follower riassume il sentimento generale, affermando, abbiamo toccato il fondo, non capisco l'attinenza, nemmeno che cosa faccia per vivere. Che sceneggiata penosa, poteva entrare già con calzature comode, forse farebbe più parlare. Questo episodio ha riportato in primo piano il dibattito sulla figura pubblica di Yari, che è stato oggetto di critiche per le sue apparizioni televisive dall'inizio dell'anno. Nonostante le critiche, Carrisi continua a essere un personaggio che suscita interesse e discussioni nel panorama mediatico italiano. E voi cosa ne pensate di Yari Carrisi? Fateci sapere cosa ne pensate con un commento e inoltre vi ricordiamo un piccolo supporto, semplicemente cliccate sul tasto iscriviti e lasciate un mi piace al video. Grazie mille!